Proseguiranno e saranno completati i lavori di riqualificazione della vecchia e chiesa madre di Montevago, già in parte riaperta alla fruizione turistica dopo la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro. E' arrivato il nuovo decreto di finanziamento dall'assessorato regionale alle infrastrutture nell'ambito del piano di sviluppo e coesione della Sicilia. Si tratta di poco meno di un milione e mezzo di euro, evidenzia il sindaco Margherita La Roccarruvolo, somma che è stata stanziata per i lavori di completamento del restauro della vecchia cattedrale, riavviata al culto lo scorso gennaio a 54 anni dal sisma del Belice e in questi mesi diventata location di diverse iniziative culturali. Il recupero della chiesa madre e la riqualificazione dei ruderi del vecchio paese distrutto dal terremoto del 68, aggiunto al sindaco La Roccarruvolo, sono punti caratterizzanti del programma dell'amministrazione cui si sta dedicando grande impegno, ritenendo di fondamentale importanza la valorizzazione della memoria per guardare al futuro con consapevolezza e fiducia. La cattedrale di Montevago, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, fu costruita sul luogo dove sorgeva la chiesa del Santissimo Crocifisso e del Purgatorio. Iniziata dal principe Giovanni Gravina Moncada, venne poi portata a termine dal cardinale Pietro Gravina e consacrata nel 1820. La facciata presentava una sagoma neoclassica articolata su due ordini sovrapposti e affiancata da due alti campanili. L'interno era a croce latina diviso in tre navate con cappelle laterali. All'incrocio del transetto con la navata centrale si innalzava la cupola emisferica. Le pareti dell'abside erano decorate da freschi monocromatici rappresentanti storie bibliche, mentre nelle cappelle laterali sorgevano altari ornati da pregevoli opere artistiche di tipo scultoria e pittorico. Dopo il sisma del 1968, la vecchia chiesa madre di Montevago è andata quasi completamente distrutta, ma dallo scorso 15 gennaio è tornata a rivivere dopo la conclusione dei lavori di un primo progetto di restauro, che adesso potrà essere ultimato. Ieri ho ricevuto il decreto, mi è stato comunicato che c'è la somma tutta disponibile, abbiamo avviato la gara, quindi mi auguro in tempi brevissimi, e con una parte nel 2022 e poi tutto il 2023 è data la somma per poter procedere e continuare in questi lavori di recupero che abbiamo fatto nella vecchia chiesa madre distrutta dal terremoto del 68. Certo, è una grande soddisfazione perché questo consentirà, già è fruibile, abbiamo fatto varie manifestazioni, l'abbiamo, diciamo, tra virgolette utilizzata. È ovvio che con questa somma, che è una bella somma rispetto ai 730 che avevamo avuto nel primo stralcio, questa somma consentirà di fare tantissimo e soprattutto di riportare ancora meglio e di più alla luce quelle che erano le bellezze di questa nostra cattedrale.